Ciao amici di Radio Roma Sport da Alberto Fiano. L'immancabile appuntamento con il punto sulla Roma dopo Roma-Empoli di sabato 1 aprile, ovviamente corrente di anno. Che dire, maggior profitto con minor sforzo. La Roma vince con l'Empoli e conquista tre punti che, come alla vigilia avevo detto, valgono sei, visto che domani ci sarà lo scontro diretto tra Napoli e Juventus, le due principali antagoniste ai vertici della classifica della Roma e di conseguenza sarà impossibile non guadagnare o tre punti sull'una o sull'altra o addirittura due punti su entrambe. Quindi quello che bisognava fare, la Roma l'ha fatto in pieno, ha vinto 2-0 contro l'Empoli, quindi facendo anche con il maggior profitto e con il meno sforzo. Perché nel primo tempo la Roma parte sotto tono e questo l'ha detto anche lo stesso Spalletti in conferenza stampa. Mi auguro di sbagliare, ma ho visto uno Spalletti in conferenza stampa un po' insofferente verso la stampa romana. Non vorrei che sia un segnale inequivocabile di ciò che ha fatto anche, o che meglio ha detto anche ieri, che tutto lascia presagire che purtroppo al 90% il tecnico di Certaldo a fine stagione dirà arrivederci Roma per la seconda volta e questo sarebbe un grande danno. Comunque tornando alla partita poi la Roma dopo i primi 25-30 minuti di gioco comincia a sciogliersi e soprattutto nella ripresa è molto più libera di testa. Evidentemente pesava il pensiero inconscio della fondamentale come lo stesso Spalletti l'ha definita partita di martedì. Prostimo 4 aprile ore 20.45 è stato olimpico, ritorno di semifinali di Coppa Italia con la Lazio, questo è pure logico, però bisognava pensare all'Empoli. Poi la Roma si è sciolta, nella ripresa ha giocato molto più libera, ha fatto vedere delle trame di gioco interessanti e quindi ha ripreso confidenza anche dopo la sosta. È stato un buon rotaggio, un buon rotaggio che ti permette poi di preparare ora la partita di Coppa Italia con la Lazio in modo tranquillo, in modo sereno e quindi con il giusto entusiasmo, la giusta carica agonistica. Una partita che sarà un crocevia fondamentale, fondamentale perché la domanda è questa, se Spalletti sa che la squadra è con lui e che vuole la sua conferma, lanciando quel messaggio dicendo che se io non vinco il secondo posto non è una vittoria, io me ne vado, ha dato come un segnale ai giocatori, voglio vedere veramente ora quanto veramente mi volete qui perché così magari martedì con la Lazio oltre a dare il 100%, date il 125% sia oltre le vostre potenzialità psicofisiche, gettando il cuore e la testa, i polmoni e i muscoli, oltre all'ostacolo con tutta l'anima, con tutto quello che si ha dentro veramente, fino all'ultima goccia di sudore, fino all'ultima goccia di sangue, ovvio in termini sportivi e magari visto che poi è lui che li tiene sotto scacco ogni giorno in allenamento, sa come toccare emotivamente le corde dei suoi giocatori, sa quale bottoni andare a spingere e magari con questa forte dichiarazione e riuscire proprio in quell'intento che io ho appena enunciato. Tornando alla partita con l'Empoli, da segnalare un ottimo intervento di Cezni a inizio primo tempo sul Marilungo e poi comunque un'ottima prova di parete dal centrocampo, la buona mezz'ora di Crenier quando è entrato e la doppietta di Dzeko, che passa alla storia della Roma perché mai nessun marcatore, né Totti, né Pruzzo, né Balbo, né Badistuta, aveva fatto 33 gol in una sola stagione ed in Dzeko ci è riuscito e quindi ora è di diritto, di fatto e con merito nella storia della Roma come miglior marcatore di tutti i tempi in una sola stagione e ancora non è finita. Ci aspettiamo e tutti speriamo che possa ancora ripinguare questo bottino già da martedì, magari con un'altra doppietta. L'impresa è ardua, l'impresa rasenta la mission impossible ma non è affatto proibitiva, poiché la Roma ha nelle capacità sue, nelle sue capacità tecniche, morali e tattiche la forza di poter ribaltare questo pronostico che ora giustamente la vede molto penalizzata. Il Sassuolo oggi nella prima mezz'ora di gioco, 30-35 minuti, ha dimostrato che se la Lazio viene aggredita con un ritmo alto, con un pressing feroce e tambureggiante, con trame di gioco veloci soprattutto con verticalizzazioni palla a terra ed allargando il gioco sulle fasce, è una squadra che è vulnerabilissima e quindi è da quello che deve prendere a mio avviso spunto Spalletti per poi riproporlo in campo martedì sera e quindi soprattutto l'alta intensità di gioco. La Lazio ha dimostrato che se incontra squadre che tengono un ritmo infernale almeno per 70-75 minuti del match, lei li soffre terribilmente e questo è quello che deve fare la Roma. Poi speriamo che la fortuna almeno una volta, visto che deve esistere anche nel calcio, una legge di compensazione, ci dia una mano perché senza fortuna anche i più bravi fanno poca strada e soprattutto che magari si riesca a trovare quel gol nei primi 15-20 di gioco, 25 di gioco del primo tempo, quell'1-0 e allora poi la pressione sarà un macigno sulla testa della Lazio, anche qui l'11 di Dinzaghi ha dimostrato di non essere perfetta. Cosa fondamentale, diamo con tutto il cuore il benvenuto, anzi il ben tornato alla Curva Sud. Sarebbe bellissimo che proprio grazie alla spinta della Curva Sud la Roma possa compiere questa impresa. Nessuna Curva al mondo è capace di trascinare la propria squadra a grandissime prestazioni come la Curva Sud e quindi io invito tutti a seguire la Curva Sud. Scateniamo l'inferno, una bolgia giallorossa per questa grande partita, per questa grande rimonta. Cancelliamoli dall'esistenza ovviamente in termini sportivi, dimostriamo che la Roma siamo noi, che Roma siamo noi, che la capitale è giallorossa, che loro qui sono ospiti e quindi stessero bene al loro posto. Poi per quanto riguarda questa gara di martedì, che dire? Io rinnovo l'invito a riempire lo stadio, riempiamolo. Sarebbe bello che il riscaldamento per partita i giocatori lo facessero sotto la Curva Sud con coni incessanti e che si stringesse come un patto di sangue virtuale con i tifosi per dare tutto e di più. Dovranno essere pronti a una battaglia di 120 minuti anche perché si potrebbe andare anche ai tempi supplementari e quindi bisogna fare la partita perfetta. La Roma la può fare, la Roma la deve fare, siamo tutti con lei veramente. Impossibile è solo ciò che crediamo che lo possa essere. Quindi nulla è impossibile. Questa Roma può farci ancora sognare, questa Roma può farci ancora urlare di gioia sia martedì ma anche poi nel proseguo del campionato perché ci sono dopo questa vittoria con l'Empoli altre partite abbordabilissime da prendere ovviamente col giusto piglio, con la giusta grinta, con la giusta testa ma che chiedono l'obbligo di tre punti e mi riferisco a Bologna-Roma, a Roma-Atalanta e a Pescara-Roma. Quindi mi raccomando che la Roma faccia la Roma anche in queste situazioni qua, in queste circostanze, ma ora la testa deve stare al derby. Quindi martedì sera tutti con la Roma e che poi insomma ecco alle 23 del martedì 4 aprile si possa veramente festeggiare, sarebbe un'apoteosi. E penso che il pubblico della Roma, penso che Spalletti, che questa Roma, che questi diffusi, visto quello che hanno sofferto, stando lontano dalla propria squadra per 18 mesi portando avanti una protesta in termini molto molto civili, se lo meritano sarebbe il giusto e gratificante e meritato premio per quello che hanno sofferto questi diffusi, che sono il cuore della Roma. Anche per questo appuntamento ho detto tutto, come disse Dottor nel celebre film con Peppino Di Filippo a Milano. E quindi do i miei saluti agli amici di Roma Talk Radio, dove io sono speaker e opinionista il lunedì e il martedì mattina dalle 10 alle 12 e mi riferisco soprattutto ad Andrea Materia e Fulio Micozzi. Do un abbraccio alla mia amica giornalista, ex Gazzetta dello Sport, nonché grande diffusa della Roma ovviamente, Natalia Di Porto. Do un saluto a Roberto De Angelis che con Stefano Tini e il loro staff ogni venerdì pomeriggio vi danno il grande onore e piacere di partecipare alla loro trasmissione. Questa è la Roma in onda su Stap Radio, RDA Radio 1, Radio Bomber e Vedi 100. Do un grande saluto al mio amico degli inascoltabili, microfono d'oro per la stagione 2016, Nicola Caprera. Do un saluto alla mia carissima amica, dottoressa Indizione Locopedia e anche a brava attrice teatrale e cantante, Annalisa Peruzzi, per chi fosse interessato alle sue materie, può contattare la sua pagina Facebook. Do un grande saluto al mio amico Guglielmo Timpano e a Flavio Maria Tassotti, Anima e Conduzione della trasmissione Gioco Pericoloso che va in onda tutti i giovedì sera dalle 21 alle 22.45 su Tele Roma 56 dove io curo appunto la parte tattica e pronostico sulle avversarie di turno di Roma e Lazio. Do anche un saluto alla mia amica, bravissima attrice di fiction e cinema, Elda Alvigini alias Faglia Masetti per quanto concerne la serie di successo dei Cesaroni. Spero di non aver dimenticato nessuno, chi ho dimenticato ho fatto in buona fete, comunque mando un abbraccio generale a tutti quanti così almeno mi faccio perdonare se qualcuno non l'ho salutato. Vi ricordo anche che chi viene a nome delle trasmissioni questa è la Roma, Roma Talk Radio, gioco pericoloso, ha un'agenzia del Magalberto, strita in Via Gandia, 141 B come gli 11 anni di serie B che si è fatta la Lazio, quindi B come serie B. Zona Prati, Piazzale degli Eroi e che pronuncia la parola magica Daie Roma Daie avrà una giocata gratuita di 10 euro che noi con piacere regaleremo. Per questa volta è proprio tutto, vi auguro una buona notte, vi auguro una buona domenica, seguiteci sempre più numerosi mi raccomando e soprattutto a martedì più che mai Daie Roma Daie, soprattutto sempre, ovunque e comunque. Ciao e alla prossima da Alberto Fiano qui su Radio Roma Sport.